E' stato divertente interpretare Cleo proprio per questo motivo, perché lei è assoluta, e anche sbagliando, che poi alla fine, appunto, gli estremi non ti portano mai ad avere un quadro anche chiaro e sano nella situazione. Però diciamo che lei è un po' che tiene questo nostro figlio aveva ragione, ma tutto sommato, ricordo, c'erano, 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 quindi tutto sommato.